Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video che oggi vi spiego come trovare quella tizzatoio della morte, poker della morte, that's poker come volete chiamarlo, basta che vi recate qui, accelerate il tempo fino ad arrivare alla notte, fate quello che volete ma accelerate il tempo se no il tizio non lo ucciderete, quell'uccellaccio di merda di morte e questo è il terzo che ammazzo perché se volete altri incantesimi su di lui guardatevi una delle mie guide su come trovare quel rancor dell'antica morte, le teste che volano, l'incantesimo delle teste che volano e poi la magia dell'esplosione spettrale sempre uccidendo questo uccelaccio però rispetto agli altri questo ha le ali meno luminose ed è più piccolo perché quando l'ho ucciso mi ha dato 20.000 rune mentre l'ultimo che ho ammazzato quello veramente non schiattava perché se lo ammazzi ti dà l'incantesimo della fiamma spettrale esplosiva ti dà 440.000 rune si trova sulle cime dei giganti ok? Quindi se ti va guarda una delle mie guide e lo trovi, lo ammazzi e ti prendi l'incantesimo io intanto l'ho fatto fuori con la sua magia, le teste che volano e niente era molto semplice perché questo non ti fa un cazzo, non ti fa niente mi fa poco di danno perché io essendo a livello 255, vitalità 65 ho anche l'armatura del crogiolo, così si chiama quel tizio che ho ammazzato e niente dopo che l'ho ammazzato mi ha dato quell'incantesimo l'attizzatoio e adesso vi faccio vedere anche cosa fa perché se tu continui a spammare il tasto per la magia nella mano destra questo veramente fa un botto di danno eh adesso un attimo che lo equipaggio devo un attimo equipaggiare questo bastone, questo attizzatoio e niente, la magia quella è, non è che crea una grande scia fino ad arrivare fino a quell'albero no, fa questo, tutto qua però se tu continui a spammare il tasto, quello continua a fare questa mossa eh stordisci anche i nemici lo butti giù, gli fai un sacco di danno se lo potenzi fino al livello 10 devo potenziarlo, tanto non me ne frega niente le rune ce le ho ho tante pietre da forciatura se vuoi tutte le pietre da forciatura basta che guardi una delle mie guide ho fatto veramente un sacco di video su The Ring tanti video utilissimi che vi potrebbero veramente servire adesso andiamo a provare questo bastone su questi parassidi schifosi ed è anche di livello 1 e fa già abbastanza danni, già si, adesso mi hanno rotto un po' i coglioni questi uso un attimo il fiume di sangue mi ricarico un po' e guardate un po' e uno e due e tre e cade a terra io continuo perché odio i parassiti e niente ragazzi il video finisce qui se ti è stato utilissimo iscriviti al canale lascia like attiva anche la campanellina resta sempre aggiornato e niente quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial mi raccomando se ti interessano anche le altre magie dell'uccellaccio tutto sul canale ok? ciao grazie a tutti grazie a tutti